In questo mese di febbraio sono partiti i lavori sul fiume Foglia, lavori annunciati sugli argini effettuati dal Consorzio di Bonifica delle Marche per un'opera legata alla mitigazione del rischio idrogeologico. Lavori che erano annunciati come un taglio selettivo delle specie arbore non è d'accordo però sull'argomento Italia Nostra, così come diverse associazioni ambientaliste. La Lupus in Fabula, WWF, Lega Ambiente, si parla di un taglio indiscriminato di centinaia di alberi secondo queste associazioni che hanno denunciato la cosa con un esposto. È stato autorizzato un taglio selettivo per la mitigazione del rischio idraulico e quindi non si capisce perché abbiano ruspato, abbattuto tutto ed è insomma come minimo inaudito. Noi abbiamo ricevuto segnalazioni, anche le altre associazioni si sono schierate contro questo tipo di attività, dato che poi nel versante a monte non è stato fatto niente di tutto ciò. Il rischio idraulico ovviamente è una cosa molto importante però non ci sono state esondazioni in tempi recenti e se non appunto via Toscana c'è stato qualche anno fa nel 2005 mi sembra e però c'era stato anche proprio un taglio dell'argine per dei lavori in corso avevano lasciato una parte completamente sterrata e aperta, è chiaro che il fiume lì è esondato però è un caso rarissimo. Ma a parte questo insomma non si può arrivare a quel punto anche perché, come ripeto, perché a monte, cioè nel tratto precedente non è stato fatto quello che è stato fatto adesso da via Ponchielli fino al ponte della Ferrovia e poi vogliono arrivare fino al ponte Vecchio. Qui ci troviamo al termine di via dell'Acquedotto alle porte del parco 25 Aprile, parco al quale non si può accedere in questi giorni, come potete vedere tutta l'area è transennata ma l'area che a poche decine di metri dal corso del fiume Foglia porta i segni di questo disboscamento colossale, cataste cataste di legno che sono state depositate in questa zona agli arcini del fiume. Una situazione per la quale Italia Nostra ha presentato denuncia di approfondimento ai carabinieri di Ancona e al gruppo forestale di Pesaro, si richiedono accertamenti per capire se tutto corrisponde alle normative vigenti per giustificare questo disboscamento. Noi abbiamo chiesto una verifica perché appunto questa autorizzazione al taglio selettivo dovrebbe essere rispettata e speriamo che almeno si possa evitare che dal tratto del ponte della Ferrovia fino al ponte Vecchio questa parte di vegetazione sia salvata. Grazie. Grazie. Grazie.